cari sagittario c'è un gran traffico planetario nel vostro segno venere mercurio giove che si muovono proprio in casa vostra e voi siete protagonisti di primo piano in questo periodo quindi potete spendere bene i vostri talenti la vostra immagine il vostro curriculum soprattutto lunedì martedì e mercoledì con questa bella luna che può rendervi ancora più convincenti e faccia di glutei di sempre quindi sfruttatelo questo periodo non state con le mani in mano purché non diate ascolto ai canti delle sirene di nettuno contrario nettuno è il pianeta delle nebbie dei miraggi cercate di stare con i piedi per terra i facili entusiasmi lasciamo lì ad altri quindi voi state veramente sul pezzo ma sempre senza perdere di vista la concretezza giovedì e venerdì non sclerate l'amore arriva se non lo avete si perfeziona se già lo avete si butta via un partner che non serve più e ci sono ormoni damigianiformi che vi rendono ebbri di piacere fornicatorio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti